... Io la cosa che voglio dire è che vedo oggi qua tante persone che sono legate a un'area. Ed oggi dopo un anno noi siamo tornati esattamente qui a Bologna precisamente nel medesimo posto di un anno fa per dimostrare che noi primo andiamo dove vogliamo. Situazione che a mio parere è diventata veramente insostenibile. Il mio augurio è dopo lascerò la parola. Sioni e chiusure senza parlarvi di migliaia di aziende chiuse. Tutelassi i lavoratori, migliaia e migliaia di lavoratori in pochi giorni licenziati con un sms, con un whatsapp. Siamo di partire da quello, io vi ringrazio molto e buon tutto, anche buon anno. Tre mesi fa, quando qualcuno ha ipotizzato, peraltro forse non era neanche opportuno, del gruppo in Taperone, di tante difettive solidarie che... Per me i figli sono il nostro futuro, abbiamo visto come li hanno trattati. Non c'è bisogno delle quote rosa per far valere la propria identità femminile. Adesso il conflitto in Ucraina e la crisi energetica mettono a nudo l'incompetenza della nostra classe dirigente, che prima ha rinunciato all'energia nucleare, un'energia che oggi permette alla Francia di autoprodurre oltre il 70% pubblici, di lasciarla passare alla gente, perché qui non si corre alcun pericolo. E lasciate anche più pulite, se è possibile, di quello... ...dello stato in cui... Tra il settore del turismo e alla fame, purtroppo noi saremo ingoiati dagli squadri... ...dito da un algoritmo, da una multinazionale per la quale lavora, ma che... Purtroppo sto facendo vecchietto pure io, ne abbiamo... ...assolutamente riprendere il lavoro e dire che la festa... L'Italia può diventare, aspirare per la mente, a ritorno... ...che il Deep State oggi non è altro che quella vecchia medica, democratica, finta... Grazie.